buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 124 oggi partiamo alla scoperta di parma il parla siamo noi nessuno spegnerà questa magia la storia siamo noi l'amore mio non ha categoria il parma siamo noi e ovunque andremo basterà la città conosciuta per due prodotti d'eccellenza il prosciutto prosciutto di parma e il parmigiano il formaggio che prende proprio il nome dalla città di parma parma però è molto di più di queste due cose qui potete trovare monumenti e piazze bellissime opere d'arte di artisti famosi e soprattutto uno stile di vita lento e a misura d'uomo quindi se avete in programma un viaggio in emilia romagna e passate per questa città non limitatevi a un giro di poche ore ma programmate qualche giorno per stare in questa città e godervi con calma tutte le sue bellezze cominciamo la nostra visita da piazza duomo ammirate il duomo in stile romani colombardo che racchiude in sé moltissimi stili la costruzione inizia nel 1100 e nel 1526 correggio famoso pittore del rinascimento realizza nella grande cupola un bellissimo ciclo di affreschi sul tema dell'assunzione della vergine da non perdere sempre in piazza duomo il battistero realizzato da benedetto antelami nel 1100 la sua forma è ottagonale in quanto il numero 8 rappresenta l'eternità il passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena rappresentata dal cerchio il battistero è in marmorosa di verona decorato all'esterno da uno zooforo cioè un grande anello di animali reali e fantastici come dire un bestiario medievale composto da animali veri fantastici e mostri la parte esterna del battistero è un lungo racconto della vita di gesù del battista morte e resurrezione tutto raccontato per immagini nella parte sud est in un punto dove il sole non batte quasi mai si può vedere il segno di una pedata l'impronta del diavolo che venuto a conoscenza del progetto della costruzione di un edificio così bello era andato a vederlo e preso dalla rabbia lo aveva preso a calci per distruggerlo senza però riuscirci la cupola interna invece presenta delle decorazioni che descrivono gerusalemme dopo la fine del mondo con gli apostoli e gli evangelisti sempre in piazza dell'uomo potete vedere il palazzo vescovile sede vescovile e museo diocesano qui potete vedere la storia del cristianesimo a parma e vedere tra l'altro la statua originale di quella posta sul campanile della cattedrale le statue degli arcangeli michele gabriele i due profeti e le statue di re salomone e la regina di sava ricordatevi che dovete prenotare se volete visitare il duomo e il battistero spostiamoci adesso al monastero di san giovanni evangelista qui c'è la chiesa il convento e l'antica spezziera di san giovanni cominciamo dalla chiesa che è stata dipinta dal correggio sulla cupola vediamo un cielo aperto con al centro cristo e tutto intorno appoggiati sulle nuvole di apostoli andiamo adesso al monastero che ha ben quattro chiostri e la spezziera o farmacia di san giovanni aperta dal 1201 solo per i monaci mostra un viaggio nella medicina la sala del fuoco mostra antichi banchi per la vendita delle medicine vecchie bilance e vasi in ceramica e legno la seconda sala chiamata sala dei mortai mostra come si preparavano le erbe ed i minerali la terza detta la sala delle sirene fa vedere pubblicazioni mediche antiche la quarta stanza chiamata la sala degli alambicchi mostra il laboratorio la sala è anche chiamata la sala del pozzo perché c'era il pozzo con l'acqua e le cantine per la conservazione dei materiali proseguendo a piedi arriviamo in piazza steccata e qui entriamo nella chiesa della steccata e prima vi dico perché si chiama così nel 1300 appare sulla facciata dell'oratorio della chiesa l'immagine di una madonna allattante tutta la gente si ferma a guardarla il posto diventa un luogo di devozione e c'è talmente tanta gente che si è dovuto costruire uno steccato zaun e da qui deriva il suo nome la chiesa della steccata nel 1500 viene costruito un santuario per proteggere l'immagine la cupola è opera di antonio di sangallo il giovane ma il vero capolavoro della chiesa è il sottarco della cupola del presbiterio affrescata dal parmigianino ultima opera da lui realizzata prima che si ammalasse e morisse giovane a 37 anni non si sa bene per quale motivo alcuni dicono di malaria altri per la sua passione per l'alchimia dicono che fosse pazzo alla fine l'opera che possiamo ammirare nella chiesa della steccata si chiama le vergini sagge e le vergini stolte storia del vangelo di matteo gesù racconta che dieci vergini aspettavano l'arrivo del loro sposo ma solo cinque di loro avevano portato abbastanza olio così quando lo sposo arrivò le spose con poco olio erano andate a prenderne ancora e solo quelle che ne avevano portato abbastanza poterono entrare alla festa un'altra cosa importante da vedere in questa città è il palazzo della pilotta a parma non si tratta di un semplice palazzo bensì di un vero e proprio complesso monumentale cominciato nel 1583 da ottavio farnese secondo duca di parma che voleva ampliare il palazzo ducale e quindi fa costruire un corridore cioè una specie di corridoio di collegamento con un cortile il nome del palazzo deriva dal gioco della pelota vasca spagnola perché a quei tempi soldati spagnoli che avevano conquistato la città giocavano alla pelota nel cortile del palazzo durante gli anni successivi il palazzo viene ampliato e conserva una grande collezione di libri e opere d'arte dei farnese per andare ai piani alti si percorre lo scalone monumentale costruito sul modello dell'escorial di madrid il palazzo oggi ospita il museo archeologico nazionale il teatro farnese la biblioteca palatina la galleria nazionale e il museo bodoniano il più antico museo della stampa italiana ed infine si affaccia sulla piazza della pace un grande spazio verde che al suo interno ha il monumento al partigiano e il monumento a giuseppe verdi ricordatevi che se volete andare a visitare il palazzo questo è chiuso il lunedì all'interno del palazzo come vi dicevo ci sono molte cose da vedere soffermiamoci su alcune di queste che secondo me sono importanti e valgono la pena di essere viste come per esempio la galleria nazionale di parma purtroppo per la città l'ultimo dei farnese una volta diventato re con il nome di carlo di borbone decise di trasferire una parte delle opere a napoli la collezione attuale è comunque bellissima e contiene opere di beato angelico correggio parmigianino leonardo carracci guercino il greco e vantique anche questo museo è chiuso il lunedì sempre all'interno dello stesso complesso architettonico possiamo vedere il teatro farnese a parma costruito tra il 1616 e il 1618 era per l'epoca un vero capolavoro di creatività e tecnica l'impianto scenico era mobile gli attori potevano essere calati dall'alto e si poteva allagare riempire d'acqua il duca ranuccio primo farnese lo fa costruire per festeggiare l'arrivo di cosimo secondo de medici ma la famiglia lo uso pochissimo solo nove volte e non è mai aperto al pubblico nel 1944 poi viene colpito e distrutto da una bomba e rimane abbandonato per molti anni fino agli anni 50 quando viene ricostruito secondo i disegni originali vicino alla cattedrale nel centro storico andiamo poi a vedere il monastero di san paolo a parma e qui abbiamo un capolavoro del rinascimento italiano la camera di san paolo o camera o camera della badessa affrescato dal correggio nel 1519 la badessa e ptis era giovanna da piacenza donna di grande cultura che invitava in città grandi artisti la fresco del correggio è particolare per l'effetto illusionistico la camera ha forma quasi cubica con struttura tardo gotica che viene quasi completamente nascosta dai dipinti un pergolato di fronde tra le quali si muovono diversi putti e diana tra l'altro anche dea della virginità per riferirsi appunto a giovanna e figure poi mitologiche si pensa ma non si sa veramente che correggio si sia ispirato a raffaello e a michelangelo in questo periodo è chiusa purtroppo per lavori ma riaprirà a gennaio del 2024 ultima cosa nel complesso del palazzo della pilota è il teatro regio di parma uno dei templi della musica italiana parma è considerata la città della musica e i suoi abitanti ne sono grandi conoscitori e sono molto esigenti nei confronti degli artisti anche il giorno della sua inaugurazione il 16 maggio del 1829 vincenzo bellini porta in scena la zaira e viene accolto da un fiume di fischi e proteste il libretto non era dato la musica era stata cambiata e la prima esibizione rimandata per molto tempo per vedere il teatro bisogna fare una visita guidata di mezz'ora attenzione però il teatro non è sempre aperto al pubblico ma solo dal primo settembre al 30 giugno dal martedì al sabato e poi nel mese di luglio dal lunedì al venerdì di grande interesse è anche san francesco del prato chiesa gotica costruita probabilmente nel 1240 e prima sede dei frati francescani nel 1840 le truppe francesi scacciano i frati e trasformano la chiesa con un laboratorio dei camminamenti per i militari celle per i prigionieri l'edificio viene trasformato in carcere e utilizzato come prigione pensate fino al 1992 successivamente poi viene recuperato e si sono scoperti affreschi e opere d'arte interessanti una cosa da provare assolutamente quando siete a parma è la cucina il prosciutto di parma è un must ma a pochi chilometri dalla città c'è zibello dove si produce il culatello il prosciutto più pregiato anche non molto lontano c'è felino dove si producono i salami ma da provare anche la coppa schweine cam tra i primi piatti abbiamo gli anolini una pasta ripiena servita in brodo come i cappelletti tortelli tagliatelle e risotti come secondo lo stracotto di manzo schmuerbraten il bollito tafelspitz e la rosa di parma un arrosto di manzo con prosciutto di parma parmigiano reggiano in scaglie splitter e lambrusco pensate che parma è stata dichiarata città creativa unesco per la gastronomia una curiosità l'ospedale vecchio di parma è uno dei più antichi ospedali costruito nel tredicesimo secolo e poi nel 1250 con un nuovo ospedale per i cosiddetti trovatelli come si diceva un tempo per i bambini che non avevano genitori che venivano abbandonati o non riconosciuti dai genitori nel 1500 si costruisce un nuovo edificio con le infermerie il porticato e il chiostro degli esposti altro nome per indicare i bambini che venivano lasciati dai genitori che non potevano mantenerli in un posto quindi esposti in un posto dove di solito i religiosi in chiesa o i dottori potevano raccogliere i bambini e darli poi in adozione perché vi dicevo che parma è la città della musica beh qui per esempio è nato arturo toscanini che già da bambino è molto portato per la musica studia armonia composizione e violoncello e si diploma con lode nel 1886 va in tournée in brasile come violoncellista ma deve sostituire in gran fretta il direttore d'orchestra e così dirige l'aida a memoria e ha solo 19 anni con lui il modo di vedere l'opera cambia arturo toscanini esige poi più tardi che le luci in sala siano spente proibisce l'ingresso a chi arriva in ritardo e le signore devono togliere il cappello durante lo spettacolo queste cose cambiano il modo di andare a teatro che un tempo era un luogo di ritrovo per farsi vedere chiacchierare beh ci sarebbero tante cose da raccontare su questo straordinario artista ma magari ve le racconto in un altro episodio torniamo a parma invece un prodotto famoso è la violetta il fiore si chiama proprio la violetta di parma la duchessa di parma e piacenza maria luigia moglie di napoleone arriva a parma e nel 1816 si innamora di questo fiore delicato e profumato e se ne occupa personalmente oggi la violetta di parma ha una varietà che porta il nome viola odorosa duchessa di parma che non esiste in natura ma è il risultato di tecniche botaniche che danno al fiore un doppio petalo blutenblatt se andate all'ortobotanico nel centro della città la potete vedere ma la duchessa amava così tanto questo fiore che sono stati creati profumi essenze dolci servizi da tavola e forse si riferiva proprio a questo amore marcel proust quando per descrivere la città di parma ha detto color malva malva malve la magia di un profumo che evoca una città e un'epoca se avete poi ancora un po di tempo a disposizione andate a fontanellato non lontano da parma e qui visitate la rocca medievale e non lontano dalla città il parco dell'amasone con il labirinto di franco maria ricci un gigantesco labirinto fatto esclusivamente con canne di bambù con più di 200.000 piante diverse piccole e grandi fino a 15 metri e infine come non citare giuseppe verdi il compositore è nato a busseto in provincia di parma e ha sempre amato questa città ogni anno ad ottobre c'è il festival verdi per onorare il compositore la sua musica nel 1843 giuseppe verdi si trova a parma e al teatro regio c'è il nabucco presentato nel 1842 alla scala di milano e che decreta poi il successo del compositore ecco bene cari amici questa era una piccola descrizione della città di parma e di cosa potete fare se decidete di visitarla quindi tanta arte musica divertimento e buona cucina cosa aspettate a partire a me non resta che augurarvi buon viaggio e a risentirci al prossimo episodio ciao ciao da luisa canterò griderò il parma siamo noi nessuno spegnerà questa magia la storia siamo noi l'amore mio non ha categoria il parma siamo noi e ovunque andremo basterà veder la maglia per cantare ancora forza parmale il parma siamo noi avessi due o tre vite penso che te le dedicherei perché non posso stare senza te il parma siamo noi e alziamo il cielo quei trofei da quella notte a Wembley noi ti seguiremo ovunque andrai il parma siamo noi e ai